Quando si parla di regali io impazzisco Io volevo un regalo Ma si fai schifo invece Fai schifo Perchè Non vedi niente regalo Ciao ragazzi Oggi sono un po' confuso perché Sei noioso ma smettila Andiamo in partita che se vinci ti faccio un regalo Ed è il regalo più assurdo Che tu possa mai avere ricevuto Nella tua vita ok Ma non puoi dirmi che regalo è No perché non si può E se no si perde la magia del Natale Perché oggi è Natale anche se non è Natale E se non c'è 10.000 mi piace Ah questa è la scorreggia Che vi esce dal buchettino là sotto Quindi spolliciate 10.000 mi piace in questo momento Se avvanziate i sussini Spolliciate Adesso Ok vabbè io nel dubbio voglio un regalo Perchè non si rifiutano mai E anzi ragazzi vi dico che Se inserite il codice shiko in supporto a un creatore Su Rocket League O su qualsiasi gioco della Epic E ci tagate in una serie su Instagram In cui shoppate Qualsiasi cosa nello shop Tipo questa macchina bellissima Che mi piace un sacco Noi Riposteremo la storia E in più risponderemo I vostri messaggi Tutti I Giorni Ma adesso quindi io devo vincere una partita E se la vinco Tu mi fai un regalo Esatto A me piacciono i regali Però non è giusto che devo vincere Ho cambiato i tasti Ho il controller Allora io so che i regali sei abituati Non ti aspettare le caramelle È una cosa migliore Fidati di me A me piacciono Allora eh Allora ecco Dai Ok Nuovi tasti Devo sprintare con il coso Ci sono Cambiati i tasti Cambiati i tasti Nove secondi Ma sei fortissimo fra Me la porto avanti Me la porto avanti Bravo La rimetto in mezzo ancora Vai fra Vola No No ma qui lo stai facendo solo per non farmi il regalo Signori 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 Luca Luca Mamma mia Sì Bravo bro E il regalo si avvicina sempre di più signori Ma mi fai anche il pacchetto Dov'è il pacchetto regalo? Bro ci metto pure sopra il nastro se vuoi Sì Perché c'è il fiocchettino Sì Voglio il nastro Voglio il pacchetto Voglio tutto A proposito di caramelle ragazzi È un po' che non facciamo un commento stupido Scrivetemi nei commenti Qual è il vostro dolce preferito Il commento ignorante bro No no ho esagerato No Ho già ho sbagliato Ma cosa stai facendo? Tu fai una farfallina? Sì sì mi piace fare la farfallina Questa è mia No Raga sono ancora nuovo io Se riesci a fare gol con i tasti nuovi in quel modo Il regalo vale uguale L'ho detto Bravo Tu sai che ha dato inizio partita? Luca la claccia? Luca la claccia C'ho 220 punti Non ha 300 praticamente bro Bravo Bravo Quando si parla di regali io impazzisco A proposito di regali Ma tu ne fai mai di regali in live? Ma sai che stavo pensando di farne qualcuno? Magari non lo so Tipo non so qualche scambio bello Allora gli scambi si fanno Ma però Cosa stavo per fare? Cosa stavo per fare? Torni in difesa Stavo chiamando da Como Rispondi lì e dili che stai vincendo la partita Ok aspetta Sei pronto? No Pronto? No dovevi impararla Pronto? E questo Chiama il telefono mamma Vabbè il regalo me lo prendo io Pronto? Il regalo me lo prendo io Devo meritarmelo io Ci devo giocare io Adesso la vinco io Adesso la vinco io da solo Io voglio sapere chi è che mi chiama da Como E poi quando gli dici pronto In 20 secondi ti dice Ma puoi prendere gol? Cosa vuol dire sta cosa? Non vuol dire niente Oh no ora ne prendiamo Stavamo vincendo Ma chi ti chiama da Como? Ma era un numero fisso Ma non lo so Ok l'ho mandata su io Scusami ti ho mandato contro andando Ma mi è arrivata una mail Ma chi se ne fotte Ma smettila Fai l'accensione alla partita Ah ma perché mi è arrivato il caffè Era Amazon Il corriere Era Ah Tu sei proprio loco nel cervello No No dai no A 9 secondi Io mi perdo un regalo Per 9 secondi No dai No non è nero Adesso facciamo ancora la città Non ce ne frega niente Bro li battiamo Guarda bro Andiamo Vai bro Determinato non si vola niente uomo Vai uomo Vai uomo Ok 9 secondi Carca bro Vai Pam Ok Guardalo No non ci credo No non ci credo Non ci posso credere E non è ancora finita Non ci credo È caduta Io volevo un regalo Vabbè Dammi un'altra possibilità ti prego Una ancora una possibilità Un'altra possibilità ancora E poi Anche contro di loro se vogliono Li distruggo Li distruggo Li distruggo Dai va bene Va bene Autum 1 8 9 3 Ti spacco le ossa Dentro dentro Mamma mia Vai tu dalla palla Vado io sulla palla Vado 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 Io vado sulla palla quella piccola Che ti fa andare veloce Sbusta Vai 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 che bello così È tua Cioè ma raga Ma che assist aia tu dove spingi tu adesso mi devi dare un cerotto schifosino cosa paluca quando ti trovi nel posto giusto al momento giusto e fai gol ma non sai neanche te come pam di contrasto vabbè sei magico c'è la bacchetta in mano è tutto per il regalo no eh mi sa che entra no che non entra si che entra e invece si ok vedo che essere un ragno non è tanto una cosa buona però adesso faccio gol fra preparati quanti sono brutti i ragni quanto a me piacciono ma come fare a aprire certi ragni che hanno mille occhi bro anche tu nei due non è che fai schifo ma si fai schifo invece fai schifo no 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 anche la partita prima partiamo in vantaggio non vincolo ok un sudo udo cacchio voglio lo scudo voglio un regalo perché ho detto scudo no ho sbagliato lato in cui girare dai non ci credo dammi il boost no 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 allora è un minuto quattro gol da fare ce la facciamo mi sa che non ce la facciamo perché diventano 5 hai fatto autogol cioè tu non vuoi proprio darmelo il regalo ci siamo non ha il boost non ha il boost non ha il boost vai è tuo no bro ero in mezzo però quindi niente regalo diciamo che hai fatto più punti di me in entrambe le partite sei stato invitato a uno scambio con frasci io non lo so però a me hanno detto che questa ti aiuta a migliorare tanto la fennec e visto che sei lì che mi dici sempre voglio migliorare grazie la fennecchetta la metto subito oddio che strana così sembra un un coso per anziani no adesso la modifico aspetta fermati comunque tutto ciò ragazzi questi scambi li possiamo fare anche in live trovate il link qua sotto in descrizione faremo molto presto una live in cui ci scambieremo tutte le cosine quindi mi raccomando passate dal link che trovate qua in descrizione aspetta un secondo accetto lo scambio vedo se ho delle ruote carine da darti pure doppio regalo secondo me queste potrebbero essere carine se no potrebbero esserci anche queste ok grazie se vuoi ci ho anche un criceto ma quanta roba hai scusami eh ti do queste poi ti do queste poi ti do queste questi scambi mi piacciono gli scambi sono una cosa molto bella vai ti do queste grazie ti è piaciuto il regalo? sei contento? sono un attimo confuso ma quanta roba mi hai dato la prossima volta avrai dei vincere se no non va bene si quella prossima la vinco ma sai che cosa una quante aspetta che vedo se magari ho anche qualcosina tipo di mimetica dai va che almeno così flexi direttamente vabbè io accetto eh nel dubbio se allora puoi provare questa mhm questa questa c'è tu hai qualche esplosione? eh non so cosa significhi eh ti prendi questa esplosione questa questa hai le scie? ce le hai? hai della roba oppure no insomma ma che ne so io di che cos'ho? io schiaccio i tasti nel garage e mi metto le robe dovrei avere le cose il cactus addio grazie mille sono confuso ma grazie ma adesso sono curioso fai vedere fai vedere fai vedere ma guarda la e metto i criceti sono bellissime le esplosioni tra l'altro io ho detto un regalo lui si è fatto l'inventario adesso siiii ragazzi eccoci questa è la mia nuova macchina con i cricetini e i cactus e le faccine felici anzi guarda vi faccio vedere la la macchina arancione guardala cioè quanto è cattiva andiamo a provarla fra ripagherò del regalo facendoti vincere giuro gioco in giuro gioco dall'altra stanza gioco guarda che la fenneca delle hitbox è un po' diversa dalla dominus in realtà sono un po' tu devi capire che io sono un app ok ho appena iniziato a giocare quindi nemmeno mi devo abituare alle nuove macchine non so come funzionano e basta quindi vabbè allora vai di vai di prepotenza e sentimento bro guardala che bella che è wow eh scusa la palla si ok buono guardala 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 è troppo alta però mi sa eh ehi invece ci sono io bro nooo non ci credo nooo dai no non ci credo comunque con la fenne è la mia macchina è la mia macchina nooo ecco ho fatto male i calcoli come frontiere ma 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 ok signori è dentro signori è dentro mamma mia e lui la vede dentro oh no ok in difesa devo proprio lavorarci buono guardalo è tua no dai nooo come troppo l'ho mandata troppo al lato guarda è tua è tua boom bravo 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 mamma mia ma signori la fennechetta guardala come vola bravissimo visto è servito regalartela mamma mia è servito qualcosa ti faccio vincere tutte le partite ora te lo dico io alla vittoria nostra comincio a ballare in aria per la fennec cominci a ballare in aria No! Stavo per fare il gol Raga Guardate la Fennec che ci fa vincere Mamma mia Grazie mille Fra per il regalo raga Ad ora in poi vedrete la Fennec E per ora noi non possiamo parlare di salutarvi E ringraziarvi passate da Fra in live perché Davvero porta tutti i giorni Rocket perché noi cominciamo oggi vi chiamo Al prossimo video Fra saluta Amori Bella